sono meri lippo marico vengo dalla provincia di brindisi dalla puglia perché sentivo sempre parlare di salzano tirone salzano e tirone da zero all'impero le dodici fatiche mamma mia insomma mi hanno accompagnato durante il lockdown con un libro le dodici fatiche dell'impero insomma alla fine tutta questa curiosità dovevo capire chi erano questi due personaggi beh che dire mi sono trovata qui a cunio a frequentare il loro corso due professionisti fortissimi oltre ad essere due imprenditori futuristi perché loro guardano oltre e sanno darti anche spiegazioni scientifiche per quanto riguarda la gestione del personale che non è un qualcosa di semplice e soprattutto due persone che oltre ad essere degli imprenditori sanno anche essere degli organizzatori fantastici che dire è un corso fantastico che sicuramente mi cambierà la vita già da lunedì e che consiglio a tutti perché solo così possiamo sovravvivere agli odontosauri grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti